Un'estate con numeri importanti, quella per i centri estivi organizzati dal CSI di Fano grazie agli animatori che stanno facendo divertire oltre 500 bambini in otto strutture tra Bellocchi, San Lazzaro, Zona Trave e Sant'Orso. Facciamo attività prevalentemente sportiva, però senza tralasciare laboratori o altri tipi di attività. Il ringraziamento ha spiegato Pietro Giorgi, responsabile dei centri estivi per il CSI, va a tutti i ragazzi e gli animatori che hanno avuto una buona formazione e che lavorano dietro le quinte per animare l'estate dei più piccoli. Siamo partiti con un corso riconosciuto dal CONI per educatori sportivi in cui hanno aderito 150 ragazzi e abbiamo selezionato questi corsisti per lavorare con noi nei nostri centri. Finalmente! Grazie a tutti.